Eccoci di nuovo a noi e riprendiamo con le carte di questa mattina. Questa volta c'è l'incipit che mi è stato richiesto in uno dei commenti, non ricordo quale. A volte ci sono dei commenti che non compaiono, però io riesco a leggerli lo stesso. E d'altro qui metto il like, però poi non compare sul canale, non lo so perché. L'incipit è, se questa persona potesse, dovesse, volesse, come vi pare, fate voi, parlarmi, parlare in modo chiaro, cosa direbbe? Vediamo un pochino cosa direbbe questa persona. Prendiamo le nostre carte, sempre nove carte. Ma vi prometto che non le annoio, anche perché andiamo a vedere qual è il messaggio di questa persona, ma quindi non sarà molto descrittivo, sarà più un fiume di parole, come cantano i jalis. Allora, beh, questa persona è l'amico o l'amica di quella di prima con la scopa, che voleva darla in testa all'altro, l'altra. Arriva con il bastone, questo giovane con il bastone, è vero pure però, che con questo bastone si sta dando un tono e si sta appoggiando. Sembra quasi che abbia il cappello da prestigiatore, sta avvicinandosi verso di voi, questo uomo, questa donna, con il suo cappello per tirar fuori un trucco. Un qualche cosa che vi possa, quantomeno, non dico distrarre, ma allietare, vi vuole mostrare qualcosa. È una persona buonariamente appariscente, appariscente nella misura in cui, comunque, se fa il suo ingresso in un luogo, lo si nota, lo si sente, lo si vede. Persona di compagnia, persona di società, uomo o donna, vale per tutti e due. Sta per tirar fuori qualcosa dal suo cilindro, ma non sappiamo che cosa sarà. È un illusionista? È un manipolatore? Non è un manipolatore? È un mago? O semplicemente una persona stravagante? Sicuramente si avvicinerà a voi con qualche cosa, e sarà probabilmente una motivazione banale, anche una scusa, e questo è appunto il bastone. avrà bisogno di qualcosa per potersi effettivamente avvicinare. Sarà ciò su cui lui poggerà tutto ciò che conseguirà il vostro incontro. Una base, mi appoggio, senza la base non mi muovo, e arrivo con i miei trucchi pirotecnici. Soprattutto cosa vengo a fare? Vengo a rispondere. Mi hai provocato, come direbbe Alberto Sordi, e io adesso vengo e ti rispondo. Vengo e ti faccio aggiungere il mio messaggio, oppure io di persona vengo a parlare con te. Volevi tanto che questa cosa accadesse? Perfetto, io accetto il guanto di sfida. E vengo verso di te a parlarti. Vengo a dirti... Ah, vengo a dirti che ho aspettato tanto le tue parole. Ho quantomeno cercato di tradurre quelle che ogni tanto sono giunte. Non ho mai capito in maniera chiara che cosa volessero dire. Qual è il messaggio? Ho dovuto leggere al di là delle righe. Ho provato a leggere al di là delle grate. In realtà mi sono trovata intrappolata in questo gioco di prestigio. Perché fiutavo qualche cosa, ma non riuscivo a comprendere. Non sei mai stato chiaro, non sei mai stata chiara con me. È stato tutto un gioco, probabilmente un divertimento, probabilmente un passatempo. Questo passatempo a un certo punto è iniziato ad andarmi stretto. Mi sono sentita in gabbia, mi sono sentito in gabbia. Quello che sembrava un canto in realtà era semplicemente il grido di un uccellino intrappolato. Quindi sì, all'inizio forse quel suono è stata un po' una colonna sonora che ha aglietato una solitudine che in fondo con un passatempo ha saputo riempire se stessa. Poi alla lunga però questo riempimento è diventato un riempimento di nulla. Ma anche questo nulla aveva il suo peso e questo peso ha cominciato a schiacciarmi, a schiacciarti. Quindi c'è stato uno scambio, effettivamente qualcosa è accaduto, ma non è stato uno scambio chiaro. Soprattutto non è uno scambio che sta portando assolutamente a nulla. Ed è uno scambio anche oramai piuttosto noioso, perché è uno scambio che ci sta intrappolando in dei personaggi che non ci appartengono. Bene, questa persona potrebbe venire da voi a portare una ventata di leggerezza. Anche perché effettivamente quella gabbia che oramai va stretta è come se pretendesse una trasformazione radicale di quello che fino ad ora non è stato nulla. Perché il bruco chiuso nella sua crisalide non ci vuole stare più, in trappola non ci vuole stare più. Questo meccanismo comunque è stato messo in movimento, questo meccanismo ha cominciato a trasformare le persone coinvolte nel bene e nel male. Ed è come se entrambe queste persone stessero cercando semplicemente di darsi una stiracchiata, stendere le ali e potersi allontanare. Togliersi di dosso proprio quell'involucro che non serve e che adesso è come se asfissiasse in parte la loro anima. Si può rinascere, c'è una primavera che sta chiamando le persone coinvolte, non è detto che le debba chiamare assieme, ciascuno prenderà la propria strada. Sicuramente diciamo che lo spettacolo è finito, quantomeno bisognerebbe avere il coraggio o la dignità di uscire dalla sala. Si è pagato il biglietto o si è visto uno spettacolo, va bene così, si è stati intrattenuti, era un gioco, nulla diciamo da rimproverare. Era un gioco di illusionismo, lo si sapeva prima ancora di entrare dentro il teatro. Restano i dubbi, ma questa è una cosa diciamo positiva perché vuol dire che l'illusionista è stato veramente bravo. Perché se uscendo dalla sala si uscisse convinti di aver capito che cosa è successo e come le cose sono andate, beh, i soldi sarebbero stati poi alla fine gettati al vento. Invece no, si resta proprio col dubbio perché in tutto quello che è accaduto effettivamente le persone che hanno preso parte allo spettacolo, ecco, in ciò che è accaduto non sono state in grado di leggere la verità. Non si è capito bene dove fosse il trucco, quale è la cosa reale, quale è la cosa finta, talmente bene intrecciati questi due mondi che poi hanno creato semplicemente un'immagine così veritiera da lasciare increduli. Ecco, direi proprio così. Avvocato, ci dobbiamo chiarire? Allora, in realtà, l'avvocato viene a dirci una cosa molto semplice in rapporto a quanto detto fino ad ora, perché poi ogni carta la dobbiamo calare anche nella storia che sta emergendo. Signor giudice, verrebbe a dire questo avvocato, guardi che non è come sembra. E il giudice potrebbe rispondere all'avvocato, è ben arrivato, lei proprio non l'ha visto allora lo spettacolo, uno spettacolo di illusionismo grazie alla giustizia che è dietro di lei che non è come sembra. Lo sapevamo, quindi in realtà non c'è dolo, si stava giocando. Ah, perfetto, allora la situazione poi è molto più semplice di quello che potrebbe sembrare. Ma non è come sembra, ho detto, sì, abbiamo capito, però in realtà qui qualcosa c'è, ne dobbiamo uscire perché altrimenti diventiamo matti. Non è come sembra, però qualcosa c'è, dobbiamo capire che cos'è questo qualcosa. L'avvocato va via, il giudice inizia a ragionare. Il nostro giudice ci viene a dire, se effettivamente avete iniziato una sorta di ballo, questo ballo è stato fatto di passi, una volta condotto l'uno, una volta condotto l'altro, però effettivamente si trattava solamente di un'attività pratica. Una durata, quell'attività sarebbe terminata ad un certo punto, ciascuno a casa propria, non avrebbe apportato nulla di più se non il piacere di giocare nel mentre si stava giocando. Il problema grande è stato che a un certo punto il gioco ha cominciato a prendere di reale e il reale ha cominciato a prendere di gioco. La confusione è diventata talmente tanta che come un fiume in piena ha indirizzato la messa in scena verso una sorta di apparente incarnazione della stessa, cioè i personaggi hanno cominciato a recitare nella vita e a vivere la recita. Questa ha portato tantissimo, tantissimo, tantissimo caos, quindi se potesse parlare cosa vi direbbe? E questa persona vi direbbe semplicemente che non ce la fa più e vuole tornare alla sua quotidianità, che non ne vuole sapere niente, che casa sua è sempre lì, il cancello è aperto. Questa carta ci viene anche a dire che a livello di sentimento non c'è davvero nessun astio, non c'è nulla a pretendere, probabilmente è stato solo tutto un grande fraintendimento, e questo grande fraintendimento purtroppo è stato avvelenato dal fatto che lo spirito agonistico, potremmo dire, di dimostrare di essere abbastanza abili, bravi, intelligenti, ecco questo ha semplicemente stravolto le regole iniziali, perché all'inizio di regole non ce n'erano, e finché queste regole non ci sono state è stato tutto molto divertente, perché è tutto molto libero. Poi alla fine sono rimaste semplicemente le grate iniziali, quelle che abbiamo visto, che hanno catturato un pochino quell'uccellino che era forse l'intermediario, questo gioco di parole, di messaggi, di comunicazione, di detto, non detto, intuito, non intuito, a un certo punto tutto in gabbia, tutto bloccato. Quindi cosa vi direbbe? È l'uomo con il bastone che anche l'uomo con il mantello, probabilmente si ricollega alla lettura di questa mattina. Qui stiamo partendo, ci stiamo spostando, e stiamo muovendoci senza portare nulla con noi, semplicemente il soprabito, ci stiamo coprendo, ci stiamo anche un po' nascondendo, abbiamo rimesso il cappello sulla testa, quindi non abbiamo più bisogno di nulla a cui appoggiarci, non dobbiamo più tirar fuori il coniglio dal cappello, nessun trucco, mi sto semplicemente ritirando, e nel ritirarmi, con molta eleganza, non uso più parole, quindi cosa vuol dire? Probabilmente per qualcuno di voi che si è trovato incastrato in una dinamica che è diventata molto più grande della sua capacità di previsione circa la stessa, e quindi molto più complicata, molto più pesante, molto più vincolante. Ecco all'improvviso, come è iniziata, nulla finirà, come nulla fosse accaduto, nulla fosse successo. Semplicemente terminerà, perché l'illusione grande è che le cose debbano necessariamente continuare, 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 portando sulle spalle il peso di tutto quello che è stato, invece la più grande libertà interrompere una serie di azioni per iniziarne una completamente differente, che potrebbe vedere poi al suo interno personaggi completamente differenti. Quindi le carte ci dicono che qualsiasi cosa sia successa, alla fine questo qualcosa andrà a morire da sé. Andrà a morire da sé, poi vediamo l'ultima carta, perché, non lo so, è come se ci fosse un rimorso, un rimpianto, o in realtà l'incapacità di entrambi di capire quale è l'aspetto positivo di questa alleanza. Ora, la coppia di sposi non deve voler dire necessariamente sposi in senso letterale, però sicuramente quando due situazioni, due energie, due persone riescono a dialogare anche nel gioco in maniera fluida, hanno qualcosa in comune. Forse tutta questa situazione doveva solo far emergere quel qualcosa in comune. Perché? Perché magari uno dei due non si era reso conto di avere determinate risorse, solo leggendole nell'occhio e negli occhi dell'altro le avrebbe poi trovate anche in sé, sarebbe riuscito poi a trovarle anche in sé. E probabilmente tutto questo gran casino serviva semplicemente per focalizzare qualcosa di buono che da soli non sarebbero riusciti a individuare. E che cos'è questo qualcosa di buono? E questo qualcosa di buono potrebbe essere semplicemente una primavera. Una nuova primavera. Beh, direi che la lettura è veramente collegata con la lista mattina, perché comunque c'è qualcuno che vuole portarvi dei fiori. Qualcuno che vi vuole parlare di primavera. Qualcuno che non si rassegna, ma in realtà è qualcuno che nel gioco vuole semplicemente ricordare all'altro che la vita non si ferma. E che si può gioire delle piccole cose pur non temendo che queste ultime possano ingabbiarci. Cioè, a Roma si dice che mica mi si appiccica anche una gentilezza non necessariamente diventa una galera. Non lo so. Chissà. La comunicazione che le carte ci hanno dato questa sera mi sembra alquanto più criptica di quella di questa mattina ma quindi ve la consegno così. Un bacio. Grazie. Grazie.